anche becky lynch e shinsuke nakamura si sono iscritti alle rispettive risse reali della royal rumble secondo voi soprattutto la prima hanno qualche possibilità di vincere fatemelo sapere nei commenti in una recente intervista cortengol ha ribadito la sua volontà di non lottare mai più per non lasciare nei fan un brutto ricordo di sé avendo perso l'efficienza fisica di quando era più giovane ecco cosa ha detto ieri cm punk durante la preview ufficiale del 2024 wwe andate in onda in america su peacock quello che set pensa di me non mi interessa e questo è il modo con cui mi approccio a lui forse è geloso o invidioso ma non sta a me dirlo o scoprirlo per fortuna c'è un ring molte volte quando hai delle divergenze con qualcuno le risolvi lì dentro il mio immediato futuro è la rissa reale se set sarà ancora campione non appena la nebbia verrà sollevata forse potremmo iniziare a discutere di come sistemare la questione tra le corde ieri giovedì charlotte flair ha rivelato di essersi operata al ginocchio in alabama la ragazza ha promesso di lavorare al massimo delle sue capacità per rientrare entro se non prima i nove mesi previsti per il suo recupero il successo ha scritto non si misura dalla posizione guadagnata nella vita ma dagli ostacoli valicati nel tentativo di raggiungerla superare questa montagna sarà il mio più grande test